Sei Blaze, solo Blaze, Blaze, il più grande campione sei Blaze, sei l'eroe più potente, invincibile sei, perché in gamba tu sei, sei Blaze, un campione sei Blaze, Blaze, un campione sei Blaze. Tra poco Blaze e le mega macchine, i puffi, sono tornati, con maldestri, spericolati e grandiosi episodi. Non perdere il divertimento, con sorpresa, i puffi, i nuovi episodi, da lunedì alle 19, su Nick Junior. Monster High, Monster Fest, che la festa abbia inizio, con lucchi e accessori da urlo, che divertimento con le bambole Monster High, Monster Fest, non finisce qui. Apri le porte della Monster High e scopri tante sorprese con la linea, segreti da brivido, misteri mostruosi. Le mucche fanno mu, ma una fa mumu. Sta arrivando, eccola qua, porta un mondo di bontà. Freccia non si ferma mai, nessun'altra è come lei. La merenda felice è mumu, solo da cameo. Sfida i tuoi amici con il nuovo Mumu Memory. Acquista due confezioni di mumu e prova a vincerlo. Mammi Surprise Dolphin, dolcissime mamme delfino, che hanno bisogno di te. E ora, in acqua. In acqua, nascono tanti cuccioli delfino. Adotta la tua mamma Surprise Dolphin, avrai una nuova dolcissima famiglia. Su Sky, arriva Sozza. Scusami, come? Sì, sono tornati! La serie legal più amata. A che punto sei con l'udienza di domani? Io racconterei tutto. Prendi appunti, io non ripeto. Vivi i casi più appassionanti. Siamo qui per questo. Lui non l'aveva capito. In piedi, entra la corte. Ecco quello che succede adesso. Tutte le stagioni sono disponibili on demand. Avrai la lista entro stasera. Cosa vuoi che faccia? C'è solo una cosa da fare. Mollare? E fino al 21 settembre, anche su un canale interamente dedicato. Ed ora, Blaze e le mega macchine. Tutti pronti, si parte di già. One, two, three, vai, Blaze!